Quanto è importante nella moda la sostenibilità? Nella moda la sostenibilità è fondamentale e soprattutto necessaria. La moda è bellissima, ci piace tantissimo, ma ha anche un impatto importante sulle persone e sul pianeta. Quindi ci dobbiamo rendere conto di questo impatto e noi con Stella McCartney e con Nunes vogliamo che questo impatto sia positivo. Quindi è molto importante aver avuto questa conversazione in una terra così meravigliosa che è la Puglia e che va preservata. Solitamente quando si parla di sostenibilità non va di pari passo con la sensualità. Invece è importante veicolare anche questo messaggio e so che Stella McCartney lo fa. No, no, diciamo che è uno dei principi fondamentali per Stella McCartney. La moda deve essere bella, deve essere sexy, come dice lei. E quindi prima di tutto noi scegliamo un capo perché ci piace, perché vogliamo sentirci in un certo modo molto femminili. E poi ovviamente vogliamo, come dicevo prima, che questo capo abbia un impatto positivo. Quindi direi che è fondamentale. Come potete vedere Stella McCartney ci riesce benissimo nel suo intento. La Puglia sta attraendo sempre di più percorsi di sostenibilità. Questo grande brand inglese ha scelto noi, ha scelto Trani, ha scelto la Puglia per rappresentare questa nuova collezione che ha ispirazione ai funghi. Sono veramente soddisfatto e credo che veramente questo percorso porterà nell'economia circolare che si sta creando un grosso sviluppo turistico di qualità. Grazie. 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 Grazie.